Beh, io sono venuto per solidarietà con i confratelli vescovi che tutti gli anni facciamo questa, che si chiama CET itinerante e quindi ho sempre partecipato, sono venuto anche quest'anno. È capitata poi l'occasione di venire qui in Terra Santa e forse è stato provvidenziale. Io sono rimasto molto molto contento per gli incontri che abbiamo fatto, sono rimasto molto molto contento anche per quello che abbiamo visto, il desiderio che abbiamo trovato di collaborazione, di pacificazione, di partecipazione a tutte quante le problematiche all'interno e all'esterno. Sono piccoli semi che si buttano, si gettano con la speranza che poi dopo portino qualche frutto per l'avvenire. Sono contento di aver partecipato e di aver dato questa testimonianza e soprattutto di aver ricevuto la testimonianza di questi cristiani, autorità religiose e laiche che abbiamo incontrato qui in Terra Santa.